Ciao ragazzi e ciao ragazzi, bentornati sul canale, oggi nuovo video e in questo video vi voglio fare una piccola review di questo prodotto della L'Oreal Paris, ritocco perfetto, sicuramente ne avete già sentito parlare perché è un prodotto uscito da poco in mercato, però è stato parecchio pubblicizzato sia in tv ma anche qua su youtube, allora che cos'è? qua dice che è uno spray istantaneo ritocco radici, appunto si chiama ritocco perfetto, copertura temporanea dei capelli bianchi dura fino al prossimo shampoo, io ho preso la colorazione bruni, mia mamma ha preso invece la colorazione per capelli castani e vi devo dire che sia io che lei ci siamo trovate benissimo con la colorazione perché si andava a amalgamare benissimo con il nostro colore di capelli, allora sono 65 ml di prodotto, io l'ho acquistato al CAD in offerta sui 7,90€, prezzo pieno se non sbaglio è 9,90€, ma riuscite a reperirlo anche in offerta sui 6,90€, quindi se siete curiosi e lo volete provare io vi consiglio di acquistarlo quando è in offerta, allora qua dice che copertura temporanea dei capelli bianchi dura fino al prossimo shampoo ed è vero, quindi la durata dura tranquillamente fino allo shampoo successivo, ha un'ottima durata, copre perfettamente la riuscita dei capelli bianchi in pochi secondi ed è vero, i capelli bianchi li copre, ora io non ne ho tantissimi, li ho più che altri tipo qua nella zona delle orecchie, qualche d'uno ma nulla di che, e li copriva, si fonde col colore dei capelli, è vero, si asciuga rapidamente, tenuta ottimale, no transfer, ok ricordatevi sta parola, no transfer, dura fino al prossimo shampoo senza ammoniaca e periossido di idrogeno, qua dice che quando si apre a ritenere la bomboletta, circa 10 cm, distribuire lo spray con movimenti leggeri, cosa che io ho fatto. Allora, secondo me questo prodotto nasce, cioè è un'idea veramente geniale, nel senso che molte volte, ora io ho iniziato da poco a farmi le tinte ai capelli, perché non sopportavo più avere, anche se pochi, qualche capellino bianco qua e là, e alle volte, tra che passo dalla tinta all'altra, mi capita che non ho il tempo subito di rifarmi la tinta, quindi è ottimo l'idea di avere un prodotto del genere che vai a sbruzzare e che con i pochi capelli bianchi te li copre. Il problema è che qua dice, come vi ho detto prima, no transfer, ma mi metterò delle foto, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, e vi assicuro che non è che mi sono sbruzzata tutta la bomboletta in testa, per me non è un prodotto no transfer. Ora, c'è da dire che io sono una persona che tende a toccarsi molto i capelli, perché ne ho tanti, quindi mi viene magari da mettermi i capelli dietro le orecchie, farmi la coda, spostare da una parte all'altra, quindi io i capelli in una giornata li trucco, ma anche in una serata, quindi per me questo prodotto non mi è piaciuto per nulla, perché io mi andavo a macchiare completamente le mani, vi metterò qualche foto dove potete vedere appunto l'effetto che ne veniva fuori dopo che io magari mi passavo le mani tra i capelli, e non è che stavo lì a inflarle le mani tre ore, semplicemente li sfioravo, quindi per me questo non mi è piaciuto per nulla. Ora, se voi siete delle persone che in una giornata o in una serata riuscite a non toccare i capelli, allora lo potete anche provare, ve lo consiglio, perché come idea è utile, è comodo, però se siete come me che invece vi viene a toccare i capelli, ve lo sconsiglio assolutamente, anche mia mamma ha riscontrato lo stesso problema, e altra cosa che non mi ha fatto impazzire è il fatto che lasci i capelli veramente tanto, tanto, tanto secchi. Anche per sciacquare via il prodotto, con lo shampoo ci ho messo abbastanza, ho fatto impacchi, perché comunque sentivo i capelli molto secchi, ho fatto impacchi con maschere, oli, eccetera, shampoo, un attimino più idratanti, e ora i capelli non hanno più quell'effetto secco e rigido, che quasi sembra di mettersi una lacca praticamente, e quindi per questo a me non mi ha fatto impazzire. È un peccato perché come idea, secondo me, è un'idea molto intelligente e molto comoda. Altra cosa, che ho riscontrato una sera che sono uscita, io l'avevo applicato in questa zona qua, sempre mettendone poco, bene che ora è arrivato il caldo, sono tornata a casa con delle macchioline, cioè sono uscita che non avevo nessuna macchiolina, niente, va tutto bene, sono ritornata e molto probabilmente per il sudore questa tinta mi era un attimino scesa e quindi avevo tutte delle macchioline, vi lascerò la foto anche di quello, quindi per me non è un prodotto, cioè l'idea è buona, ma deve essere un attimino rivisitata perché non, tra che se passo le mani mi macchio tutta, con il caldo almeno su di me, soprattutto nella zona qua dove io sudo ragazze, ve lo dico sinceramente, non reggio un granché e non posso rischiare di uscire e rientrare con la fronte tutta macchiata di me, quindi niente, questa è stata la mia esperienza con il prodotto Il ritocco perfetto, che tanto perfetto per me non è, fatemi sapere voi però se invece vi trovate bene, se avete altri prodotti del genere da consigliarmi, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo nel prossimo video, ciao!